61. Latte fumoso Facevamo alcune domande sulla reincarnazione a una guida, quando un'entità sconosciuta si intromise e disse Un pastore dell'Anatolia, nero di pelle e di fatica, chi vi dice che in una prossima vita non lo diverrete, oppure non lo siete stati in una precedente? Vi addormentavate bocconi dentro la pelliccia e all'alba spremevate il latte fumoso dalle mucche. Commento La legge di causa ed effetto, ossia la reincarnazione, spiega la perfezione del tutto. Questa legge è il pilastro delle religioni orientali, da sempre all'avanguardia della spiritualità ed è anche il cardine dell'insegnamento dei maestri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti